Buongiorno a tutti, riprendiamo quest'oggi da Roma e in tranquillità, si spera senza troppi rumori. Come state? Allora, vediamo. Io rifarei la lettura quella con le carte cioè divise passato, presente e futuro per vedere che cosa oggi viene evocato dalle carte, recuperato dal passato per poterlo contestualizzare nel presente e cercare di intuire per l'appunto, essendo una lettura energetica, le conseguenze per il futuro prossimo. Avete sentito l'autobus puntuale? Da ridere, da ridere, da ridere. Questa notte dovevo finire un video personale, un consulto, perché chi mi ha seguito sa che ieri stavo rientrando a Roma, fatto un po' tardi, e persino una notte che non passano mai, appena iniziato il consulto, l'autobus è stato puntualissimo. Allora, cosa recuperiamo? Una pienezza che è anche l'avere in passato, trattenuto, contenuto e nutrito interiormente risorse che per poter dare il meglio di sé hanno preteso spazio o meglio avrebbero dovuto farlo. Ora vediamo se questa cosa è accaduta. Diciamo che la carta ci fa iniziare in maniera abbastanza positiva. Tante ricchezze, possibilità, bene integrate con il nostro essere, in fondo aspetti che determinano e hanno determinato il nostro essere, una serenità di fondo e anche, potremmo dire, un'ampiezza del cuore e della mente tale da saperle contenere. È quello che immaginavo. È stato possibile fino ad un certo punto. Perché? Trattenere ferocemente ciò che voleva esprimersi. Quella primavera che cercava di germogliare all'esterno, di poter conquistare spazio, di poter pretendere anche l'incognita della forma non prevista. Che vuol dire? Avete mai provato a crescere, far crescere e coltivare un albero, una pianta arrampicante, no? L'uomo è come con gli animali, vorrebbe sempre poter mettere la propria firma. Ti devi arrampicare su questo traliccio, mi devi fare il ponticello davanti alla porta. Ma la pianta vuole espandersi insieme al secondo autobus che passa. Vuole estendersi, vuole crescere, vuole conquistare anche aspetti della realtà, luoghi, spazi, anfrati che al momento della sua nascita potrebbero rivelarsi anche molto distanti. Le piante sono caparbi, sanno abbarbicarsi bene sulle cose e sono talmente forti che a volte sgretolano ciò che non ha il potere di trattenerle. Noi dobbiamo utilizzare tanta pazienza perché altrimenti ogni volta mi tocca interrompere questi video e credo che l'estate sarà terribile. L'anno passato la casa era diversa purtroppo. Allora, lotta interiore, in questo passato ciò che dentro premeva, pretendeva espressione, pretendeva di poter parlare, di manifestarsi, ha cominciato a cozzare con i limiti che noi abbiamo imposto, con l'armatura, con le etichette, ciò che dovevamo dimostrare e non dimostrare, le nostre scelte e le nostre non scelte. È diventato quindi un dialogo interiore, una lotta interna, difficile da gestire, contro la quale abbiamo semplicemente imposto chiusura. Questa chiusura è diventata non ascolto delle proprie necessità. E nel presente cosa accade? Innanzitutto c'è un profondo senso di rigidità e anche sbarrimento perché quello che dentro premeva in qualche modo ha conquistato un pochino di spazio, ma lottando contro le nostre resistenze non ha potuto avere uno sviluppo esteticamente bello e quindi è lì un po' così tutto piegato su se stesso, a questo tronco piccolino rispetto ad alberi, tronchi molto più grandi intorno. Ora, quel che è fatto è fatto, potremmo dire. C'è anche una rabbia verso se stessi, però qualcosa, qualcosa, qualcuno vi ha avvicinato, vi avvicinate, vi sta abbracciando, vi sceglie fra tutti gli altri alberi enormi e bellissimi. Non perché voi non siate belli, voi vi percepite così, però voi sapete anche che delle potenzialità c'erano e che avreste potuto anche conquistare vette differenti. Non le avete scelte, non ve le siete concesse, è stata comunque una vostra, diciamo, libera volontà, sebbene tormentata. Questa persona vi ha trovato, questa persona vi apprezza, questa persona vi accoglie e vi abbraccia così come siete. Nel presente c'è una persona che prova un sentimento molto intenso nei vostri confronti, questa persona è qualcuno che è stato anche scacciato, allontanato, lasciato andare via lungo la strada, ma che a un certo punto si è voltata, sia comunque questa persona per l'appunto per tornare verso di voi. Perché a differenza, diciamo, un pochino del vostro carattere, quando c'è un istinto molto forte, come intuizione, come passione, prova questo individuo, donna che sia a viverlo. E quindi è arrivata un po' a invadere la vostra quotidianità, che era diventata una sorta di adattamento all'adattamento che vi eravate imposti e imposte. E per voi è un po' un premio, una consolazione, ma anche un gran fastidio, perché vuol dire dover cambiare nuovamente le vostre abitudini. Voi che alla fine vi siete imposti delle abitudini che non vi piacciono, vi siete dovuti adeguare a queste abitudini che non vi piacciono, ora arriva quest'altra persona e mi viene a dirgli no, guarda, io voglio stare con te, ti voglio stare vicino a me tu mi piace, inizia a poi dire quello che ti pare. Io ho scelto di volerti al mio fianco. Ed ecco che nel presente inizia tutta questa, diciamo, dinamica di adattamento, che diventa anche un po' di compromesso, come dice la carta, dove sì, si è molto simili, si sta vicini, ci si guarda un po' in cannesco, perché l'alberello dice, ma tu che vuoi da me? Perché mi stai scegliendo? Perché non vai oltre? Perché sei tornata, tornato indietro? Futuro. Ci sarà un cambiamento. Ebbè, questo mutamento è, vediamo, speriamo sia un'apertura. Diciamo sempre, la ruota può diventare vortice, ma può diventare anche grande apertura. Dipende da come si muove, appunto, dal suo movimento, se è un centrifugo o un centripedo. Fatto sta che quel semino interiore che è in voi, nostra ruota iniziale, che poi è in poi in tutti, sta azionando un movimento che voi nel passato avete trattenuto e contenuto. Quindi, qui è tutto immobile. Il cambiamento è che l'immobilità di tanto tempo fa, piano piano, non esisterà più. E anche voi vi lascerete andare. Verso una piccola apertura, ma non è semplice. Però, va detto, lo vediamo con l'ultima carta, che queste nubi che qui facevano muro, proprio muro, 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 e oltre il quale non si poteva vedere neanche un piccolo spiraglio, con l'arrivo di questa persona, ci danno un piccolo spiraglio. Anche se poi, questo pianto può essere sia figlio della paura di andare oltre, sia figlio del dispiacere di non averlo fatto prima. Abbiamo un monaco, il nove, la sua solitudine. Solitudine che è stata la sua forza fino a un certo punto. È ora che iniziano a cadere un po' tutte le sovrastrutture, le maschere e le armature che non potevano durare per sempre. Vedete i bulloni? Sono saltati questi bulloni. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. questi bulloni arrugginiti. Vedete? Questa lotta sta finendo. A volte è anche il pianto veramente liberatorio di chi per tanto tempo è stato solo, sola, e finalmente inizia a vivere. Fatto sta che voi, se siete la persona che si era trattenuta, in questo momento non avete tante forze. Quindi questo pianto è un momento anche, diciamo, sintomo di un momento di stanchezza profonda. Io prenderò un'altra carta perché sono curiosa di vedere se alla fine riusciremo ad aprirci. Questa stanchezza profonda va comunque riconosciuta ed accettata, non è che adesso perché qualcosa sta cambiando, all'improvviso, fuochi d'artificio. Però potete iniziare a ragionare sul fatto che effettivamente c'è un piccolo cambiamento rispetto al passato e forse questo piccolo cambiamento rappresenta proprio ciò che stavate cercando da molto tempo. Allora far cadere le maschere e far cadere tutte le difese e tutte le strategie per passare attraverso una morte rinascita, la nostra felice che rinasce dal suo stesso fuoco, che sia distruttivo che passione, per rimettere assieme tutti i pezzi di ciò che è andato in frantumi, la stessa armatura che è saltata, in nuova disposizione, comprendere il senso totale di quello che vi è accaduto, analizzando di volta in volta e questo lavoro tocca a voi, i piccoli eventi. Quindi dal sommare il significato e le conseguenze di tutti questi piccoli eventi per comprendere, verrà fuori il risultato più grande per comprendere quello che è stato il vostro percorso fino ad ora. È il mondo, comunque c'è un appagamento, c'è una vittoria e c'è anche una grande grande conquista. Il coraggio di voltarsi indietro, prendere quelle che sembrano macerie e dare ad essere una nuova forma. Beh, non è male, è comunque un bel messaggio, certo, non semplice da attuare, però. Questo è ragazzi, un grande bacio. A proposito, poiché la lettura mi sembra molto interessante, penso che fra qualche ora poi, dopo gli abbonati, dopo voi, la condividiamo anche con gli altri che dite. Sembra che oggi porti un messaggio particolarmente intenso, in base.